salve gente di youtube e amici del motosport io sono coco e bentornati in questo nuovo video è appena finita la moto gp in giappone quindi adesso ho le informazioni in testa belle fresche e parliamo del weekend di moto mondiale ma prima di cominciare come al solito vi invito a iscrivervi a questo canale attivare la campanella mettere mi piace questo video se il video vi piace e se vi va passare anche sul mio profilo instagram link come sempre in descrizione allora in moto 3 vince di nuovo masia che è il pilota più in forma della moto 3 e sta dimostrando di valere il sedile che gli hanno dato in moto 2 con il team sag l'anno prossimo ma questa vittoria di masia è stata un po agevolata dal fatto che quel pazzo di onshu ha iniziato a fare a botte con olgato e sasaki nella prima parte di gara si è pure esteso quindi questo pilota un matto totale ma questo già lo sapevamo al pari di munoz diciamo che se la giocano a livello di pazzia questi due sasaki secondo e olgado terzo olgado perde la testa del mondiale per la prima volta a vantaggio di masia e non solo va anche dietro a yung sasaki e quindi masia primo nel mondiale sasaki secondo olgado terzo buona gara anche per il team mta angelus che piazza ne fa quarto e ortolà quinto bertelle purtroppo è caduto un'altra volta peccato perché era comunque in in una posizione buona bertelle secondo me uno di quei talenti che ha bisogno di essere smussato tanto ma poi quando quando è maturo fa dei risultati molto molto buoni chissà se poi la cena gliel'ha pagata l'unberg a onshu l'unberg avrà pagato veramente la il sushi a onshu secondo voi spero di sì parliamo di moto 2 adesso abbiamo un sonchi a chantra che quando vede una pista asiatica e la pioggia diventa il valentino rossi dei tempi d'oro dominio totale del team idemitsu onda team asia perché augura la mette secondo cioè augura conquista la seconda posizione l'ho detta un po male e chantra vince e a costa terzo a costa in crisi attenzione adesso il mondiale a rischio no ovviamente sto scherzando solo che di questi tempi è strano vedere a costa non vincere se posso l'unico problema è gas gas ma che aspetti a ufficializzare a costa in moto gp e spargarò paul non può dare più tanto a questo sport e quindi se proprio proprio miller lo vuoi tenere lì cioè al massimo metti miller in gas gas e in cappa team ufficiale ci metti a costa se no lasci miller in ufficiale e metti a costa in gas gas cosa aspetti a dare l'annuncio avanti lo vogliamo e comunque nonostante la prestazione di oggi di arbolino che di nuovo ha mancato la top 10 rimango della mia idea meritava comunque una moto gp per l'anno prossimo o comunque l'avete visto ragazzi come sta venendo su bene come sta crescendo bene zonta van de gorberg un'altra top 10 questa volta arrivato nono e lui è un pilota giovanissimo che chi non lo conoscesse magari per chi non lo vedesse van de gorberg è un pilota giovanissimo olandese che sta crescendo tanto in questa in questo finale di stagione in india arrivato sesto quindi vedremo se il prossimo anno sarà in lotta per traguardi più importanti per quanto riguarda la moto gp la prima cosa che bisogna dire è bravi tutti perché si sono tutti dimostrati capaci di stare sul bagnato e di non strafare e non buttare via una gara che comunque poi è stata interrotta bandiera rossa poi il tempo non si è calmato non ha smesso di piovere e quindi la gara è stata interrotta peccato solo perché io avrei voluto troppo vedere pirro vincere perché a un certo punto era primo perché tutti si sono fermati per cambiare moto mettere la moto da bagnato pirro era uno di quelli che insieme a bradel e le tre yamaka non si era fermato in un primo momento e quindi vi prego fermate da lì che voglio vedere pirro vincere e vabbè poi pirro è entrato dopo di tutti ed è finito ultimo bandiera rossa che è stata data perché i piloti hanno lamentato una una scarsissima visibilità anche data dal fatto che non avevano preparato un casco per il bagnato anche perché all'inizio si pioveva ma non forte come a metà gara quando poi la gara è stata fermata e a questo proposito vi dico una cosa per dare il punteggio pieno bisogna aver fatto più della metà della distanza completa della gara ma di giri completati ne sono stati fatti cioè sono stati completati 12 giri su 24 che è la metà esatta e quindi non è più del 50 per cento per quale motivo allora sono stati dati cioè per quale motivo è stato dato il punteggio pieno allora se se vogliamo essere pignoli più di metà gara non c'è corso ma si sono fatti 12 giri di 24 che è la metà precisa non è un complotto sto soltanto chiedendo eh no perché qualcuno poi pensa che sono in mala fede martin lima ancora di 5 punti li stacco da pecco che adesso sono solo 3 punti e quindi io mi aspetto battaglia infuocata veramente battaglia infuocata tra questi due con un bezzecchi jolly che potrebbe insinunarsi in alcune gare e a questo proposito per tutti quelli che dicono eh bagnai ha buttato il mondiale bagnai ha adesso un pippone adesso io tifo martin ma ragazzi cioè provate voi a fare un high side dove poi uno vi passa sopra le gambe cioè con che voglia poi tornate in moto cioè bagnai l'ha fatto per lavoro cioè perché il suo mestiere farlo e alla gara successiva ha fatto terzo quindi lui di testa forse probabilmente avrà ancora i fantasmi di barcellona ed è comprensibile che ce li abbia però ragazzi guardate che bagnai è comunque uno dei più veloci se non il più veloce in questo momento no ma la velocità per giocarsela con martin comunque siccome a me piace la letteratura quando andava a scuola mi piaceva tanto la letteratura posso fare un una piccola citazione promessi sposi sarà che questa pioggia di moteghi è stata un po potrebbe essere un po come la pioggia di manzoni che lava via la peste da milano alla fine della storia può essere che adesso pecco avrà capito che deve avere fiducia nel mezzo che ha e non guidare con la paura in corpo speriamo vedremo in indonesia tra due settimane per parlare di super bike invece bisogna parlare obbligatoriamente di super sport 600 perché in questo weekend nicolo bulega ha ipotecato il titolo quindi complimenti a lui e complimenti anche a stefano manzi e federico caricasulo che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo nel campionato per quanto riguarda la super bike in sé invece gara 1 non troppo non troppo eventful non sono successe molte cose a parte vittoria di bautista più un problema tecnico per rinaldi la super pole race invece si è decisa all'ultima curva tra rasgatelord e bautista pannaggio dello spagnolo e invece ragazzi gara 2 che tra l'altro è appena finita è stata una delle gare più belle della storia della super bike e anche che io abbia mai visto un duello dalla prima all'ultima curva tra toprack e alvaro che si sono scambiati le posizioni non so più quante volte con alvaro che superava toprack in rettilineo toprack che risorpassava in curva 5 la maggior parte delle volte toprack che dopo essere stato passato da bautista su rettilineo in curva 1 tirava sempre una staccata micidiale con le pratiche che poi si sono concluse all'ultima curva dove sfruttando la maggiore velocità della ducati bautista va esterno e compie il sorpasso quando tutte le altre volte era andato interno perché lui ha la capacità di fare l'ultimo curvo ne di porti ma ho strettissimo invece stavolta lo ha fregato andando all'esterno mamma mia ragazzi che gara è stata giochi non ancora chiusi perché bautista più 60 su toprack sarà tutto deciso a herez perché per chiudere il mondiale a porti mao toprack non doveva arrivare secondo ma meno e bautista doveva vincere è arrivato secondo in gara 2 toprack e quindi i giochi non sono ancora chiusi tra 3 settimane che rez e ci sarà il match point mondiale questo video finisce qui io spero che vi sia piaciuto mi raccomando se così fosse stato mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non prendervi nessun video seguite a me anche sul mio profilo instagram link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo day after ciao 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 ciao